Con Mario Albrizio per commentare questo risultato elettorale del 5 giugno 2016, un ottimo risultato considerando anche che sei stato uno degli ultimi a muovere la sua campagna elettorale. Diciamo che non ci possiamo lamentare anche se il piano dell'esperanza è sempre molto alto, il piano dei dati oggettivi su cui ragionavamo era comunque affermare la nostra esistenza, il nostro programma, la nostra volontà. Anche un voto andava bene, abbiamo preso 400, va anche meglio. Chiaramente la città poteva fare di più e poteva forse scommettere un attimino di più su questa novità che finalmente c'era, fuori dagli soliti schieramenti che hanno comunque portato la città al disastro. 400 voti, un patrimonio dal quale cominciare un percorso immagino. Assolutamente sì, per noi le promesse che abbiamo fatto con il nostro programma agli elettori e alla città rimangono e le porteremo avanti comunque. Da posizione meno favorita in quanto non siamo il Consiglio Comunale però senza demordere e anzi, conservando tutti i vantaggi che vengono dall'essere liberi ancora, quindi di poter fare le proprie scelte senza tenere conto di nessun tipo di equilibrio con altre forze politiche. Il 19 giugno la città dinanzi a una scelta. Chieco da una parte e paparella dall'altra. Come vedi questa sfida, questo duello? Come lista avete deciso di fare o farete? Come lista è bene precisare che non abbiamo ancora deciso quale sarà la linea comune perché di primo acchito è abbastanza diffusa l'idea di lasciare le cose come stanno perché non riteniamo nessuna delle due coalizioni all'altezza delle esigenze della città, né tantomeno esigenze di salvarsi né tantomeno di quelle del rilancio. Naturalmente speriamo di sbagliarci ma la lista deciderà. Personalmente ritengo che le due forze rimaste in campo non siano paritarie e soprattutto non lo siano i candidati. Quindi abbiamo, o meglio, una visione differente delle due candidature. Se ci saranno delle aperture su alcuni punti significativi del nostro programma, per esempio di orientamento sociale o di rilancio culturale, penso che probabilmente potrebbe arrivare un appoggio. Però, ripeto, è un'opinione mia che non c'entra al momento con la posizione ufficiale della lista.